Io sono titolare e insieme siamo dei cugini, siamo l'azienda Sfillas, una società cooperativa. Siamo, diciamo, cinque cugini di cui mio fratello, unico maschio, è un'azienda prettamente al femminile, dove il più grande ha 29 anni e la più piccola ha 23 anni. Noi produciamo, in più diciamo facciamo la pasta, pasta di grani antichi, e abbiamo ripreso il forro lungo siciliano e la tumminia o la timiglia. Ecco, da lì l'idea di riprendere i grani che i nostri padri con fatica lavoravano nei campi e dargli un futuro degno di quello che deve essere. Quindi facciamo pasta tra fila da bronzo con l'antesticazione. Abbiamo passato le aziende in biologico, quindi per fare un prodotto in toto di eccellenza.